Elevate 42 sanzioni per una totale di 4.900 euro nel corso di 954 controlli svolti a Montecatini Terme dagli ispettori ambientali di Alia Multi Utility Toscana. Lo rende noto la stessa Alia. I 36 ispettori ambientali attivi sul territorio gestito dalla società, si spiega, hanno un ruolo centrale nella lotta al degrado. A Montecatini le attività in difesa dell'ambiente e del rispetto del decoro sviluppate su cinque progetti mirati concordati con l'amministrazione comunale si sono concentrate soprattutto sui controlli di rifiuti abbandonati in aree pubbliche, 458 in totale con 642 rifiuti ispezionati, oltre che sul pronto intervento ambientale a seguito di segnalazioni dell'amministrazione comunale, di cittadini oppure della polizia municipale. Per quest'ultimo progetto sono stati effettuati 165 controlli con 450 rifiuti ispezionati e 23 sanzioni emesse per un controvalore totale di 2.500 euro. A fianco dell'impegno degli ispettori di Alia come amministrazione comunale vogliamo ricordare le sanzioni emanate nell'anno 2023, sottolinea l'assessore all'ambiente Emiliano Corrieri. Grazie alle telecamere ambientali le sanzioni emesse sono state 70 da sommare alle 42 degli ispettori per un totale di 112 sanzioni effettuate lo scorso anno.